un po' un parolo come te bello ma la c'hanno le aimbot queste loro potenziali col codio ma non muore sto pacificando oh 175 oh ragazzi io sono paks e li faccio tutti a santo questo è un vero la vera madonna zero eh no 109 vai non sono più negativo oh è ancora 10.000 punti 5 punti ho fatto io al primo 10 ma neanche eravamo già 26.000 ok ah no bravo credo medaglio grazie tanto c'è iena che fa il blu che ci ha garantato oh yeah oh yeah c'è pure lui ha quasi fatto tutti di lui stai dormendo oh iena davvero trato bene tempo scatuto come? che cosa che cosa che cosa c'è che cosa Gabbè! Ok ragazzi, è venuto animarmi, altrimenti puoi fare il giro del dietro. Ah, intanto è venuto più... no, no! Oh ragazzi, il giro è... oh! Oh no, zio! Abbiamo aspettato i soldi per me! C'è stato un po' piccolo? Eh, venivi prima, va che... Io sono un po' piccolo... L'ultimo qua di me, raga! Ma manco uno, uccido, davvero? Mi stavo uccidendo, cazzo! E io, raga, ho nato di Ale! E' molto reattivo, Preda, non è una cvca di Starfire per dare la anello. Eh? Si è sfatato, guarda! Eh, no, raga, sto fermo perché... Eh, ce ne avevo due. C'è proprio quello che mi serviva! Raga, eh... Ci stanno inchiudendo da B, hanno B, ci stanno inchiudendo di Nasse. Cosa faccio? Io vado in bocca a B. Giusto? Faccio qualcosa, amore. Sto fermo, che non è il giro. Eh, vabbè, non vogliamo! Tempo scaduto! Che poi non era più, nera in. Oddio, mi taglia la lettera come la pagina. Cosa faccio? Oh, no, 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 no! Un vissilotto! Oh, c'è il perfettore! Visto, l'ho preso con le canze di drop. Oh, no, 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 no! Rimane, 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 rimane! Un PR-1! Oh! Ok, 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 ok! Figli di troia con le Amber da sopra! l uccidete la stronzo che sta venendo da me, uccidete la stronzo vabbè dai più di me con l'erba mamma mamma ragazzi lasciatevi lasciatevi le munizioni le munizioni non ci capisci niente questo e lascio l'invita lucido non ci vuole guarda guarda tanto non fai più tanto non abbiamo 30 secondi ho fatto male tenere l'embar piuttosto di tenere il marzo che faccio cazzo ci faccio cazzo ci faccio ehhh da vicino fai più danno anche col pompa ne avevo proprio bisogno sarei potenziato ma io l'embar c'è chi c'è chi tanto giusto si tutto si potele tutta sta bene grazie madonna Ah che cosa, che mergazzo che madre bata Ah che succo dios Guardiano rilevato! Que dios Guardate o no? Guardate aiuto! Guardate a sentire le detenere! Guardate! 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 soldi, soldi mi hai risolto, mi hai capito i soldi cazzo, sono ucciso cazzo, sono ucciso credo che sono morto, però l'ho ucciso nel muro è passato nel muro è passato questo sta ancora lì per il vento per convivere un posto corretto in corso un'isola nonostante credo un buon libro un cartone giudicidio non lo so guardate come si dobbiamo spoggiare io ho la leggera la merca devi farlo di la farva di merda c'è qualcun altro che lo sapevo ma mamma mia che c'è il città ma che c'è il città c'è un altro guardiano ma c'è uno due mi ha due mi ha due, mi ha me la fuga vabbè 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 giù all'altro l'ho messo giù ma c'è qua la fate vabbè ma c'è pure che sale merda oh oh c'è l'ho dietro io ho passato attraverso quella motosegace è stata segata oh ho una granata vabbè 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 la sentirella sua è rimasta no vabbè 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 attenzione rimonta di preda 1600 vabbè sta quasi tornando quando era l'ondata 10 a 14.000 lo ma lo costo subito ma che cazzo è stato è stato aiutano vabbè righi è troppo quello è un grigiano è un grigiano fate quello maschilato vai a loro vai a loro vai a loro stai spiegando squadra ecco la volta su due anni scuola fate hit andate a volta bravo fate guardare e vado curve vado vado lo voleva non alzati abbiamo bisogno di tempo prendo io a sparare guardiani guardi guardiani ci sono nascutato cazzo 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 c Vedete? Ok Lei batti di mezzo Ok, pensi che adesso l'ulto non tremmi i soldi Oh, l'ultimazione è riparata Ok, quanto vai? No, 1.469 Eh, quella, guarda lì Vai via Ma poi c'è l'arvezione del sacco Oh, adesso è l'ultimo Oh, c'è l'ultima Oh, c'è lì Oddio C'è l'ultima Ma è salvataggio Oh, c'è l'ultima Capone, capone va bene raga non è tanto non ci si sa forse ve ne sale uno guarda 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 addio soldi che è un pelle pucia guarda 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 ragazzi dito d un animato che è atticci è andata no 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 si un po' simpatico bella kill prego competitivo ma è quella che fa in competitive manco in ordine manco in ordine manco in ordine ok e munizioni mancazza di drogato no devo sarcherlo no ripara fredda ripara qua fredda dove qua davanti no no è stata la mia strada non so che oh dio mortificazione riparata non 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 che un non non si furza Ah dai, che idea! No, Franky ce l'ha speranza che non mi sto scaricando Dai, lui ce l'ho più fuori No, bomba, bomba! Merda Questo muoio! Non c'è un giro E' un giro Fuoco! E' un DR1 Bene! Ha un serato distante E' un muoio dato Nice DR1 a te Dai, mi ha attaccato una freccia Bene! Ilfe, ilfe 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 Meine Führer Guarda, una bunzettata Non c'è un giro Fajare Fajare un giro Dai stai, lo traie! Oh shit! Oh shit! Ii a un giro Ah! Ma è il luo! Ah! Ma come te hati suvaso un muro? Loverchile? Foarte un caldo! Io faccio finalità posto non c'è un bel padre del padre non c'è un gioco di risposta preda puoi io spero guardate i soldi che vanno via la metà di ferro che più quando il mio di scritto da di dove riparo da riparare un portatore di oro eh ti spero te no riparo che facciano a barri non è che faccio la mia scuola fortificazione riparata fortificazione riparata non si fanno spesso a prima questo è un po' che ha colpito fortificazione riparata io vengo pagato almeno almeno c'è il dropshot c'è il drop vai dietro no non c'è non c'è più tornatene sottoterra che la fai con me non c'è un volto caso non c'è un volto caso mi hanno colpito nooo ancora ancora bella non c'è un volto caso che cosa deve eseguare un secondo almeno un altro il dropshot è propesso un bel il dropshot non è un bel oh quanto costo adesso? 200 oh oh ma ciò non ci sono i guardiani non ci sono i guardiani ho bisogno di aiuto, presto non ci sono i guardiani non ci sono i guardiani non ci sono i guardiani ora ci siamo ultimo troppo ma bello non ci sono i guardiani hai chi è che hai ma come hai? oh c'è uno per mulchar che sta fallendo oh non l'hai preso in testa guarda non l'hai preso vado no oh c'è un altro c'è un altro buff anche io non ho paura ma non c'è un altro ti ho visto non fa un cazzo ti ho visto io e come diritto ma è difficile capire dietro ciao quest'anno dei cazzo oh 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 finalmente poi adesso ragazzi il massaggio più piccolo eh vabbè cazzo eh vabbè che cazzo faccio che cazzo cosa ha fatto come spiegato di Preda? oh Ale io ti ho reanimato non hai combinato ma sta non hai fatto niente non dobbiamo farlo non dobbiamo farlo non dobbiamo farlo a me sembrava qualcosa Sto cazzo io! Non mi capisco! Ho più Iena a star lì che è più bravo! Non ci si che vedi! Ma come si vedi? Ah ragazzi, doveva fare stare? Non mi capisco! Non mi capisco... Cazzo io! ah porca ripeto chi è il prossimo? vai ragazzo vabbè vabbè questo qui segnalato se lo assicuro vabbè 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 non mi spari vabbè si può fare o no è salito è salito ma non fate il cazzo vabbè vabbè dove Ale dove dove bene oh no vabbè dai sali 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 non dovete crepare sale 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 vabbè vabbè rimatela rimatela vabbè 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 l'altro l'altro ce ne sta sale 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 uno sale uno sale sale vabbè vabbè è un boss di lato come mai costa zero 횪 non costo a zero il boss pò 웅 vabbè bella vabbè 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 però upp lucciocio 1 si apre Ciao è proprio un po' carissimo ci sono le mure qui, ci sono le mure ma ti fa la lusione, non sappiamo si, però è soprattutto la lusione, se la fa capire da fuori fanno il muro dentro e ti verpisce vedi quando... ma tu sei morto e fatti 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 una viola non c'è un rischio, non c'è un problema che è속ato provare, senta non c'è ancora la scuola adesso vedi 8 ore non faccio fare una cosa una azione freda non supera i miei io e mario io e mario io e mario